Ringrazio l'amministrazione, do la parola al mio amico Pasquale. Respira, respira. Quanti chilometri? Quanti metri? Tutti. Cinque metri. Sette giri. Sette giri. Sette giri ha fatto un panino. Ringrazio l'amministrazione, saluto il mio amico Pasquale che mi ha dato la forza per poter terminare in giro. L'anno prossimo sarò il primo. Ciao mamma, arrivederci, ci vediamo su monteglione.puglio.com Ciao mamma, arrivederci. Ciao mamma, arrivederci. Ciao mamma, arrivederci. Grazie a tutti.